molto irrisorio ora gli andremo a testare queste gommine di tutti i colori nel mio lago preferito poi vi do il mio giudizio me le ha regalate sì ma non credo che costi più di un euro e mezzo quant'altro andiamo a provare con quale iniziamo devo dire la verità mi ispira di brutto il super questo qua mi ispira di brutto il resto poi andiamo a vedere una specie di anguillina una specie di anguillina fosforescente è andata via con questo qua ma da tutte le soddisfazioni però non quelle che mi aspettavo devo dire la verità vediamo oh è una cosa un po' Eccolo! Buono dai! Non ha resistito! Quindi l'esca bianca fa veramente di brutto bel pezzo e vai e quando dico lo prendiamo lo prendiamo Siamo con sospetto ecco siamo a distanza perfetta no sbagliato No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, sto attento agli alberi, discreto. Vediamo se lo facciamo anche per no. E ci siamo. Ci siamo il gambero. Uuuuh, il gambero qua. Grazie a tutti. No. Porca paletta è andato via anche questo. Ad altronde, senza ardiglione. È una gara durissima. Ragazzi, proviamo a metterci due piombini, eh. Sono veloci. Che c'è? Eccoli qua. Ho anche te. Mettiamo questi due piombini veloci perché ne ho visto uno, però adesso è troppo leggera per averla. Uno. Piombini veloci. E adesso vediamo se riusciamo anche a banarlo, eh. Va un po' più là. Che c'è? Ma so, c'è che salto. Questo è un bel pezzo, eh. Oh, sì. Questo è veramente un gran pezzo, ragazzi. Ma bello, bello. Pezzo da paura. Ci siamo? Proviamo. Suo sforescente. Però l'abbiamo dato su un amo diverso, eh. Che gli dà un po' un effetto. Vediamo un po' se la faccenda è un pelo diversa. Questi li prendo sicuro. Sono a cazzo, sono belli, sono grossi. Questo lo prendo sicuro. Monte, l'è fatto. No. nooo nooo e ci ricasca non ci credo le mie gomme anche questo ha un dischetto ferruzzo si si ahhh discreta bocca per le mie esche micidiali ecco ecco non è male non è male queste gommine questi di becco sicuro ecco e full timer pesca non delude va cazza e li prende questo è un bel sviglio anche questo qua eh uuuu guardate come sale si ho provato questi artificiali che costano veramente molto poco un'ora e mezzo te ne danno sette e il più micidiale sono questo il suo fratello gemello bianco ho preso 67 pesi sono ancora integri e possono farne altre tanti veramente ottimi H si chiama la ditta di Milano se vi è piaciuto il video like iscrivetevi campanellina per seguire sempre le avventure di full timer pesca bellissimo fucsia bellissimo